Arrivano le anticipazioni dell'Isola dei famosi 2019 della puntata di stasera 13 febbraio I colpi di scena non mancheranno. Nonostante i tentativi della produzione del Ria Latì di sollevare la situazione, gli ascolti continuano a rasentare livelli bassissimi Ad ogni modo, nel corso della serata, assisteremo a due eventi inaspettati che potrebbero ravvivare un po' la situazione Stiamo parlando dell'arrivo di una nuova concorrente, Ariadna Romero, e di una doppia eliminazione che metterà in anfraghi l'uno contro l'altro Anticipazioni Isola dei famosi 13 febbraio.Sbarca a Ariadna Romero.Quella che vedremo tra poche ore sarà la quinta puntata dell'Isola dei famosi la quale si prospetta ricca di eventi inaspettati Dopo l'arrivo di due nuovi naufraghi, Geramaias Rodriguez e Suel Soerge, ci sarà anche un nuovo sbarco Stiamo parlando della nuova concorrente Ariadna Romero, modella ed ex fidanzata del velino Pierpaolo Petrelli La ragazza infiammerà, sicuramente, un po' gli animi in Honduras con la sua personalità e la sua sensualità Questa, tuttavia, non sarà l'unica novità a cui assisteremo nel corso della prossima messa in onda del reality Anticipazioni Isola dei famosi, doppia eliminazione a sorpresa.I naufraghi, infatti, verranno messi a dura prova Attraverso un meccanismo spietato, i vari concorrenti saranno messi gli uni contro gli altri, e saranno costretti a scegliere chi eliminare Naturalmente, l'ultima parola spetterà sempre al pubblico da casa Saranno i telespettatori a decidere il nome del secondo naufrago che dovrà abbandonare l'isola Ricordiamo che, attualmente, in nomination ci sono Caspar Capparoni, Sarà Altobello e Yuri Rambaldi Tra questi ultimi due prosegue il flirt Tuttavia, nel corso della precedente puntata, il ragazzo ha provato a smentire ogni pettegolezzo nel tentativo di tranquillizzare la fidanzata al di fuori del programma Le sue parole, però, vanno radicalmente a scontrarsi con i suoi gesti, e le sue azioni Vedremo come si evolverà la situazione nelle prossime ore Grazie